E vai, 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 vai Paolino, non entriamo in cose che poi devo stare a spiegarvi, non ho tempo. Anzi, buongiorno, anzi, buon lavoro, è quello che ci dice tutti i lunedì il bravissimo Filippo Poletti, top voice di LinkedIn, che ci racconta le buone notizie, le notizie importanti sul mondo del lavoro. E quindi, buon lavoro Filippo! Buon lavoro a tutti. La prima parola chiave della settimana è serenità. E se la nostra azienda attivasse dei percorsi di supporto psicologico in caso di gestione di situazioni familiari complesse, accade a Nestlé Italia. All'interno del nuovo pacchetto dedicato al welfare, la possibilità di portare in ufficio anche i figli piccoli. Benvenga dunque l'armonia tra vita familiare e lavoro. La seconda parola chiave della settimana è pregiudizi. E se la parità di genere fosse promossa coinvolgendo il 100% dei manager in percorsi di formazione per il superamento di eventuali pregiudizi inconsapevoli, accade a Birra Peroni, che ha dato vita al manifesto sulla parità di genere. L'ha fatto coinvolgendo tutta la popolazione aziendale. Benvenga dunque la parità di genere a partire dall'ascolto dei dipendenti. La terza e ultima parola chiave della settimana è offerte di lavoro. Interessante la nuova sezione su LinkedIn o LinkedIn, il social media dedicato al lavoro. Questa nuova sezione si intitola Esplora con le raccolte di offerte di lavoro. All'interno di questa sezione si può ampliare la possibilità di ricerche di offerte di lavoro mirate, in base per esempio all'equilibrio tra vita e lavoro e all'impatto sociale e appunto alla crescita professionale. Avanti tutta dunque con le ricerche mirate del lavoro che fa appunto per noi. Buon lavoro a tutti!